Prima di Ferragosto potrebbero concludersi i processi sportivi che vedono sulla Graticola il Catania ma anche il Teramo che rischiano seriamente la loro partecipazione alla prossimo campionato di Serie B. In caso di esclusioni sono pronti rispettivamente Entella ed Ascol che potrebbero essere ripescati. Secondo taluna previsione infatti soltanto più in avanti ci saranno i processi per la nuova tranche di Cremona dove in ballo c'è l'Atalanta con il Cagliari che spera di essere ripescato in Serie A ma anche Chievo e Lazio. Insomma il procuratore generale della FIGC è già al lavoro ma deve smaltire una gran mole di fascicoli. Bisognerà andare a fondo in tutte le indagini per capire effettivamente chi è rimasto coinvolto anche perché ripetiamo se qualcuno ha comprato delle partite ci sarà stato pure chi le ha vendute. La giustizia farà il suo corso ma intanto in casa rossa-azzurra si bada ad organizzare il futuro sia pure in una situazione di estrema incertezza. Nelle ultime ore per la panchina si è fatta strada l'ipotesi che porterebbe a Pancaro l'ex allenatore della Juve Stabia. Potrebbe fare al caso anche in una situazione di grande incertezza. Sembra allontanarsi invece la pista sottile che potrebbe tuttavia tornare in ballo soprattutto se i vari Baiocco, Spinesi e Stovini saranno chiamati al capezzale rossa-azzurro nei vari ruoli così come paventato fino a qualche settimana dietro. A giorni dovrebbe sapersi finalmente la data di inizio del ritiro anche se in questa situazione è davvero problematico curare i dettagli dell'organizzazione. Bisognerà sfoltire la rosa anche perché in previsione di un declassamento di categoria sono tanti coloro che vorrebbero cambiare aria. Il direttore sportivo Buonanno però non è certo disposto a svendere nessuno. E le società interessate ai vari Spolli, Sciaudone, Rosina, Calaio ed altri dovranno presumibilmente trovare un accordo ben preciso sul piano economico con il Catania.